Salve a tutti, mi chiamo Luis Walter Bertuccioli, ho 22 anni e sono qui proprio per questo concorso dell'Abarth Make It Your Race 2012. Devo dirvi che è una bella iniziativa, concordo con voi e non vedo l'ora magari di un vostro invito. Dovete scegliere me perché sono romagnolo e quindi ho lo spirito corsaiolo, come si dice. E anche perché... Mamma mia, prodotto italico ragazzi, prodotto italico. Purtroppo qui non si può correre in strada e quindi aspetto di venire da voi.